Il PD calabrese continua ad esplorare la sanità, dalle emergenze e le criticità fino alle possibili soluzioni attraverso un confronto continuo, attraverso il coinvolgimento di figure del settore. Riconoscendo da un lato il lavoro svolto finora dal Presidente della Regione Calabria e Commissario della Sanità Roberto Occhiuto, dall'altro i tanti ostacoli tuttora da superare. Di sanità si è parlato alla mezzaterme nel corso di una iniziativa incentrata in particolare sulla medicina di prossimità. È stato rilevato come sia cresciuto il numero degli anziani in Calabria, cittadini che hanno malattie, persone fragili, soprattutto le donne. Una situazione che ha delle ripercussioni anche sulla rete ospedaliera. L'80% delle richieste in pronto soccorso sono improprie perché dovrebbero essere evase dalla medicina del distretto, dai territori e dalla prossimità. Siamo in una situazione certamente di analisi. Il discorso della medicina di prossimità e quindi del territorio è chiaramente il tema fondamentale su cui nessun commissario finora si è voluto scontrare. Quindi praticamente questa medicina di prossimità è stata confinata e messa sulle spalle dei medici di medicina generale di questo sparuto gruppo di specialisti ambulatoriali. E non è solo questo. Ovviamente il tema è un tema importante, è un tema che sottolinea intanto il concetto di salute e non solo di sanità perché il concetto di salute è un concetto estensivo che va non solo su quelli che sono malati ma va sulla collettività intera, in tutte le età, per tutti i sessi, indipendentemente dal censo. Quindi il concetto è proprio quello di parlare di salute, di parlare di prevenzione, di mettere sì al sistema, perché servono assolutamente quelli che sono i servizi, ma non solo come prestazioni ma come percorsi.